Ormai il Natale è alle spalle e nonostante si pensasse che la crisi energetica e l'inflazione alle stelle potessero in qualche modo influire sulle spese natalizie effettuate dai milanesi, questo non si è verificato. Anzi, bollette altissime e rincari sembrano non avere influito sullo shopping dedicato ai doni di Natale. Dal 2021 al 2022 la spesa per i regali è cresciuta di un più 10%, ma vediamo come è andato questo shopping natalizio nel mese di dicembre. Devo dirle che è andato bene, la cosa che mi dà soddisfazione è che è andato bene anche nelle vie limitrofe, non solo nelle vie principali, quindi quelli che lavorano con la clientela nazionale, clientela fidelizzata di quartiere ed è andato bene, si è chiuso un dicembre che va da zona in zona da un più 8, un più 15% in confronto, chiaramente parliamo del 2021. Se prendiamo il 2019 posso dire che forse in alcune zone la parità si è riuscito ad andare a fare. Per questo primo Natale con nessuna restrizione per via del Covid, i milanesi hanno preferito comprare i regali in presenza piuttosto che online. Sicuramente anche perché dovevano scegliere che cosa acquistare, è stato un Natale differente come dicevamo, di più pacchetti e di importi minori, quindi non potevano comprare online da quattro piattaforme differenti e quindi sono andati in giro, che se ne voglio dire, la clientela che ha comprato un regalo di cosmetica, un regalo di abbigliamento, un regalo di calzatura e un regalo da bambino. Non era fattibile farlo online, perché devi comprare la cosmetica, andare dalla piattaforma della cosmetica e il bambino, da chi vende il bambino, è diventato un caos e poi dovevi aspettare dei giorni a ricevere il pacco. Specialmente quest'anno devo dirle che con le consegne si sono avuti dei problemi, non so se per mancanza di persone nei corrieri però si aspettavano dei giorni per ricevere la merce, anche i negozianti aspettavano dei giorni per ricevere gli assorbimenti. Finito il Natale si apre una nuova opportunità per gli amanti dello shopping, i saldi. A Milano la caccia al miglior affare durerà fino al 5 marzo. I veri saldi sono 20, 30 e 40. Quelli che partono già con oltre il 40, a meno che qualche articolo che è in via di esaurimento di taglie già da subito, sono saldi dove io non sono molto convinto. Sicuramente si partirà dal 20 e si arriverà al 40, questo per le prime due settimane. Quando, come si spera, le taglie iniziano ad essere disassortite, quindi magari non c'è più una misura o il colore richiesto, lì potrebbe essere su un ulteriore sconto che si arriva al 5. E se per Natale i milanesi hanno preferito comprare più pacchi, questo non si verifica con i saldi. I saldi no, però devo dirle che abbiamo azzeccato, diciamo, quello che era il regalo, tanti regalini o regali piccoli ed è accaduto proprio questo. Per i saldi no, per i saldi è difficile il regalo, verranno le persone a comprare o comunque le famiglie. non ci saranno tanti pacchettini e ci saranno magari delle spese dei parchi minori ma con uno scontrino un po' più alto.